è una scuola signore è una scuola questa l'assaggiatore a Moncino con pelle a magna a destra a sinistra a petto le cantine ristoranti in doce pane pure al locale scicca e vi dirò se andarci o meno guarda che sa parlare guarda ti parla prova ignoranza superata al 100% lo magno così a mod è volato traverso se ti vi addosso a qualcuno con un massimo 5 euro spesi bene ti attreppi la pasta mi hanno visto fascia perché qua stanno a carica poco forte stanno poco a menare direi ragazzi iscrivetevi al canale mi mando un bacione e ci vediamo al prossimo appuntamento magnerescio perché qua si magna forte